Benvenuti! Oggi parliamo di... Ed eccoci ad un nuovo video di Belsalento. Oggi parleremo degli ignomi del Salento. Io ho fatto una riproduzione in 3D con le mie stampanti 3D. Ho fatto una riproduzione di alcune memorie storiche del Salento. L'ognomo, vi faccio vedere. In questo caso ho riproposto un ognomo. Avrei voluto fare lo scazzamurierdu. In realtà lo scazzamurierdu ha il cappello appuntito rosso e sempre scalzo. Ed è quello che chiedeva, c'è voi sordi o cocci? Se uno rispondeva sordi gli dava cocci, ossia cocci di vasellame. Se uno diceva cocci gli dava sordi. Ed è una memoria storica del Salento. Qui accanto al video vedete l'elaborazione grafica che ho fatto al computer, i vari passaggi. Poi ho stampato in 3D questo monofatto. Ma mi ripropongo di fare il vero scazzamurierdu magari nelle prossime versioni. Questa è solo una bozza. Bene, per oggi è tutto. Nei prossimi video parleremo di il trullo di Veglie, uno dei pochi superstiti. L'idolo di Arnesano, età preistorica. Qui età bizantina, un vaso del pozzo di Supersano bizantino. Poi parleremo di età greca, di età preistorica e di tutte le epoche storiche che hanno riguardato il nostro bel Salento. Al prossimo dal vostro Giovanni Greco. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti